Salve ragazzi, siamo arrivati alla nostra seconda lezione di storia. Nella precedente lezione abbiamo illustrato il concetto di Medioevo e abbiamo proposto una serie di periodizzazioni, quindi di chiavi di lettura, di interpretazioni dello stesso concetto. Considerate che il Medioevo è un'epoca estremamente importante e tra l'altro lunghissima della nostra storia. Si estende cronologicamente per ben dieci secoli, stando all'interpretazione più ricorrente, quella scolasticamente più ricorrente, che farebbe iniziare appunto il Medioevo con la caduta dell'impero romano d'Occidente e lo farebbe terminare con la scoperta dell'America, quindi dal V secolo d.C. al XV secolo d.C. Quindi una parte consistente dei nostri antenati la si potrebbe definire medievale, sarebbero vissuti nel Medioevo. In realtà il Medioevo non è un periodo così omogeneo, la stessa definizione lascia il tempo che trova. Se pensate che tra un personaggio come Cristoforo Colombo o un Leonardo da Vinci che vivono proprio i confini del Medioevo, i confini cronologici del Medioevo, è un personaggio come l'imperatore Giustiniano, Carlo Magno, tra un contadino feudale, un borghese della Firenze del Trecento, un Dante Alighieri piuttosto che un Alquino intellettuale che vive alla corte di Carlo Magno, ci sono differenze estremamente significative. Però si usa indicare questo lungo periodo di dieci secoli come età di mezzo e far terminare il Medioevo con l'inizio della cosiddetta età moderna. Rimane il fatto che il Medioevo è il luogo in cui nasce, si va definendo quello che è il concetto di Europa, quindi i contorni in termini politici, istituzionali, nonché culturali dell'Europa contemporanea, nascono proprio nel Medioevo, si definiscono proprio nel Medioevo. Insomma, l'antichità romana evidentemente ha poco a che vedere con l'Europa contemporanea, mentre abbiamo visto che già l'impero di Carlo Magno, il Sacro Romano Impero, anche dal punto di vista dei confini, quindi della configurazione geografica, assomiglia, anche se non corrisponde del tutto, ma assomiglia all'Europa contemporanea. Oggi ci occupiamo specificamente di economia e società nell'Alto Medioevo. L'Alto Medioevo è il primo dei tre sottoperiodi in cui si divide il Medioevo, quindi inizia sostanzialmente con la fine dell'impero romano d'Occidente e termina intorno al X-XI secolo d.C. perché economia e società, in primo luogo, beh, questo in onore a una chiave di lettura marxiana, cioè risalente al filosofo Karl Marx, per cui lo studio delle basi materiali, economiche, di una determinata civiltà, sono fondamentali per comprendere le istituzioni politiche prodotte dalla medesima civiltà, nonché per comprendere la cultura, quindi l'ideologia, la visione del mondo espressa da quella determinata civiltà. Insomma, dimmi che cosa fai per vivere, come ti procuri la sussistenza concretamente per vivere, ti dirò che tipo di società e che tipo di società vivi e che tipo di istituzioni politiche esprimi. Ecco perché il capitolo su economia e società precede i capitoli successivi, che saranno poi dedicati alla narrazione degli eventi in maniera cronologicamente ordinata. Nella linea del tempo, quindi abbiamo prima la fase di declino dell'impero romano, la cosiddetta epoca basso-imperiale o tardo-antica, l'epoca del collasso dell'impero, che si colloca generalmente tra il IV e il V secolo d.C., e poi l'inizio dell'Alto Medioevo. Si tratta evidentemente di termini che si riferiscono a delle situazioni piuttosto sfumate, l'abbiamo visto nella precedente lezione, stabilire una data precisa che funga da spartiacque, ha un valore puramente orientativo. Questo è il motivo per cui, parlando delle istituzioni economiche dell'Alto Medioevo, prendiamo in esame anche quella che è la situazione economica dell'epoca tardo-imperiale, in particolare il nucleo economico fondamentale, che è costituito dalle cosiddette ville romane, che sono tipiche poi dell'Alto Medioevo, caratterizzano già lo scenario tardo-imperiale. scenario tardo-imperiale che vede una progressiva ruralizzazione, ruralizzazione vuol dire trasferimento in parte della popolazione che abita nelle città verso le campagne, quindi il ripopolamento delle campagne, decadenza delle città, decadenza, svuotamento demografico, quindi diminuzione della popolazione, che corrisponde anche a nuovi assetti di tipo economico. Perché ci si sposta prevalentemente nelle campagne? Perché le campagne garantiscono la sussistenza, garantiscono la sopravvivenza. L'impero romano va sfaldandosi, in particolare le vie di comunicazione, che avevano garantito un'economia, diciamo, proto-capitalistica, che si basava su commerci ad ampio raggio, commerci ad ampio raggio che si svolgevano tra le varie sponde del Mediterraneo. Ecco, nell'epoca delle invasioni barbariche, l'epoca in cui le istituzioni dell'impero romano iniziano a diventare più fragili, e quindi non riescono più a controllare l'imes, i confini con questo mondo barbarico, né le principali vie di comunicazione danno un colpo più o meno decisivo a quel tipo di economia, quindi quella basata sui commerci e basata sulle città, in particolare sulle città portuali. Dunque è necessario che le varie entità economiche divengano pian piano autosufficienti. Le ville sono il centro del nuovo assetto economico e hanno sostanzialmente due nemici. I due nemici sono, da una parte, queste popolazioni barbariche o bande di briganti che il potere centrale non è più in grado di arginare, e dall'altra parte gli stessi funzionari imperiali, i quali sono alla disperata ricerca di soldati da arruolare, nonché di tasse da collezionare per far fronte alle enormi spese che il potere imperiale deve sostenere per difendere i confini dell'impero. Dunque i centri, i liberi proprietari, quelli che hanno piccoli appezzamenti di terra, i liberi contadini, si mettono spesso al servizio del grande proprietario terriereo il quale ha risorse più o meno significative, magari appartiene alla classe senatoria oppure alla classe dei cavalieri, quindi è un patrizio romano, ha ampie terre a sua disposizione e ha anche delle risorse economiche per fortificare gli edifici centrali della villa, quindi per offrire eventualmente protezione sia dai nemici interni, noi funzionari imperiali per così dire, gli esattori delle tasse, sia gli eventuali nemici esterni, e può quindi dare ospitalità e dare protezione ai contadini delle campagne circostanti, i quali i contadini in cambio di questa protezione si mettono al servizio del signore locale cedendogli il possesso, il controllo della terra. Dire che in cambio della protezione rimangono sulle loro terre come affittuari, mentre prima erano proprietari, cedono la proprietà della terra al signore e quindi costruisce un latifondo, cioè un terreno, un'azienda agricola sempre più ampia dal punto di vista dei confini territoriali e in questa maniera diventano suoi servitori. La villa romana, tardo-imperiale, che poi troveremo anche come protagonista economica nell'Alto Medioevo, costa per l'appunto di due parti, la cosiddetta parts dominica, la parte del dominus, cioè del signore, che corrisponde al nucleo centrale, al nucleo più antico della stessa villa, cioè quei terreni che effettivamente appartenevano alla famiglia del signore fondiario, anche precedentemente. Poi c'è la parts massaricia, il cosiddetto mansus, che costa di quei territori che precedentemente, magari nei decenni precedenti, erano appartenuti a piccoli proprietari terrieri i quali erano stati poi costretti a cederne la proprietà al signore, rimanendo su quegli stessi terreni come affittuari, cioè da proprietari dei terreni si sono trasformati in affittuari, quindi il signore ha concesso loro di rimanere sui territori, sui terreni precedentemente occupati, il mansus grossomodo corrisponde ad un territorio abbastanza ampio per svuamare una famiglia di contadini, quindi un terreno, un territorio di alcuni ettari. Ecco, in cambio della protezione offerta dal nucleo centrale della villa, che come vedete anche nella figura, inizia ad avere una struttura difensiva accentuata e diventa un piccolo castello, una sorta di nucleo iniziale di quella che è una piccola fortificazione, un piccolo borgo fortificato, dicevo, i contadini ex liberi, ex liberi svolgono questa, qui si chiama corvece, questo lavoro obbligatorio, queste giornate di lavoro obbligatorio, nella cosiddetta parts dominica. Dunque, in cambio della protezione, non solo hanno ceduto il possesso della terra, ma mettono anche il loro lavoro, vendono, cedono la loro forza lavoro al signore, almeno in parte. Quindi rimangono sul territorio di loro competenza, sul manso, da cui ottengono ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere, ma poi lavorano in qualità di servi presso il signore. Mentre la villa romana si basava sull'istituzione della schiavitù, sull'istituto della schiavitù, il grande possesso fondiario del sistema cortense alto medievale si basa sulla cosiddetta servitù della gleba. Mentre la schiavitù sostanzialmente trasforma legalmente la persona in un oggetto posseduto dal signore, come un animale sostanzialmente, di cui si può cedere o acquistare la proprietà, invece il servo della gleba rimane sulla carta libero, effettivamente rimane libero, anche perché nel frattempo si è diffuso il cristianesimo e un cristiano non può ridurre in schiavitù un altro cristiano, non importa la sua collocazione sociale. È legato quindi più che direttamente al signore, è legato alla gleba, cioè alla terra, cioè al territorio, al terreno, di fatto direttamente o indirettamente è legato al signore che ha la proprietà dello stesso terreno, quindi ha la proprietà dei mezzi di produzione. Senza la proprietà dei mezzi di produzione non si sopravvive, dunque il servo è legato alla gleba, non può emigrare, non può spostarsi, gli spostamenti in epoca alto medievale sono decisamente rari, gli spostamenti di popolazioni da un luogo all'altro, e dunque sul territorio fonda la sua possibilità di sopravvivenza. Ecco, questa è la struttura classica di una villa romana, quindi al centro ci sono gli edifici principali, la residenza del padrone, nonché gli edifici dove si vanno a immagazzinare i cereali o le stalle per gli animali, e intorno le terre coltivate della parza dominica, più in là ancora, non sono inquadrate in questa diapositiva, più in là ancora ci saranno i manzi, cioè la parte destinata alla coltivazione dei servi della gleba trasformati in affittuari. E questo mosaico ritrae, di epoca tardo-antica, ritrae le varie attività agricole che si concentrano intorno alla villa, quindi al centro c'è la villa, intorno alle attività di raccolta della frutta, di vendemmia, di pascolo degli animali, e così via. Quindi tutte le attività agricole ruotano, metaforicamente, intorno alla villa. Di questo dicevamo prima, il rapporto tra padrone e servo e la differenza istituzionale che c'è tra la schiavitù e la servitù, anche se concretamente la differenza tra il servo e lo schiavo è poco consistente. Ecco, paradossalmente alcuni schiavi legati a questa o a quella famiglia, ma con il passare del tempo affrancati diventano dei servi quando il Signore decide di concedere loro degli appezzamenti di terra, cioè dei mansi, per sopravvivere in maniera autonoma e continuare a prestare però la loro mano d'opera nella parte centrale della villa. Alla stessa maniera gli ex contadini liberi nella zona, nel frattempo, si sono asserviti al Signore cedendo loro la proprietà della terra in cambio, dicevo, precedentemente della protezione militare. Un'altra delle caratteristiche specifiche del periodo alto medievale, o tardo antico, è l'affermazione della cavalleria come principale arma delle battaglie, diciamo, tardo antiche o medievali. A breve vi spiegherò anche che cosa centri la cavalleria, l'istituto della cavalleria con il discorso economico che stavamo trattando prima. Mentre gli eserciti romani, le legioni romani, erano imperniate intorno a potenti reparti di fanteria, fanteria munita di daga e di asta, che era appunto il nucleo centrale della legione. Invece gli eserciti medievali, eserciti meno numerosi e in alcuni casi anche piuttosto raccoglitici, fanno della cavalleria la loro forza d'urto principale. È intervenuto nel frattempo un nuovo dispositivo tecnologico, la diffusione di un nuovo dispositivo tecnologico probabilmente di provenienza orientale, qualcuno colloquerebbe la nascita, cioè un'invenzione della staffa, della cosiddetta staffa, in India intorno al secondo, primo secolo avanti Cristo. Ma insomma è durante il quinto, sesto secolo dopo Cristo che la staffa inizia a diffondersi anche in Occidente, anche in Europa, e viene utilizzata dai cavalieri. Perché è così importante la staffa? da qui la nozione di salire a cavallo. I romani dicevano saltare a cavallo, perché non essendoci la staffa bisognava saltare in groppa al cavallo per poterci posizionare sopra. Invece i medievali salgono a cavallo, perché si appoggiano alla staffa che a sua volta è collegata alla sella e quindi possono più agevolmente salire. Ma non è soltanto una missione di salire più agevolmente. La staffa garantisce una maggiore stabilità in movimento e consente al soldato montato a cavallo di utilizzare la forza, la stabilità offerta dallo stesso cavallo per utilizzare la sua arma principale che è la lancia. Facendo leva sulle gambe ancorate alla groppa del cavallo, il cavaliere può caricare, colpire con tutta la forza dello slancio del cavallo e dei suoi muscoli l'avversario. Deve semplicemente dirigere, avere cura di dirigere il colpo, ma non deve vibrarlo, perché è lo stesso cavallo a cui lui è ancorato che fornisce la spinta fondamentale per dare il colpo. Quindi gli eserciti medievali ruoteranno intorno alla cavalleria corazzata, corazzato è sia il cavaliere che è rivestito di armature, di maglia, di elmo, di gambali, di scudi, ovali, linea di massima, e a volte sono corazzati gli stessi cavalli. La carica di una cavalleria catafratta, cioè corazzata, è praticamente inarrestabile e anche le elefanterie vecchia maniera non sono in grado di reggere il confronto con le cavallerie catafratte e con le cavallerie munite di arco, ecco, data la loro mobilità. Questo che cosa comporta, che cosa ha a che vedere con la componente economica? Ecco, mentre gli eserciti romani tra l'epoca della Repubblica e quelle del primo impero sono composti prevalentemente da cittadini, contadini all'inizio, poi da professionisti, che però hanno la loro radice economica nella piccola proprietà terriera e poi sono armati ed equipaggiati dalla Repubblica prima, dall'impero, successivamente in epoca tardo-antica e basso-medievale, visto che il nucleo centrale dell'esercito e della cavalleria, ebbene, per armare il cavaliere occorre uno sforzo economico decisamente maggiore. Lo capite da soli, un cavaliere costa all'istituzione di riferimento o al signore di riferimento molto di più diunfante, perché c'è la cura del cavallo, da una parte l'acquisto del cavallo che ha un valore notevole, nonché un armamentario decisamente più complesso. E allora è necessario ancorare il militare di turno, il cavaliere, ad una risorsa economica piuttosto significativa. Ecco che le ville che abbiamo descritto precedentemente vengono spesso e volentieri concesse dai signori territoriali o dai re romano-barbarici, dipende dall'epoca in cui ci troviamo, o per parlare per esempio del regno dei Franchi, da Carlo Magno, dall'imperatore, vengono concesse i suoi comites, quelli che passano, i comites è un termine latino, il comitato è il gruppo di persone che circonda il re, ovvero che fornisce il nucleo centrale della cavalleria, dell'esercito del re. Ecco, però ognuno di questi comites deve essere equipaggiato economicamente con un territorio, con un ladisondo abbastanza vasto, visto che il nucleo centrale dell'economia è la terra, non può non essere la terra, per fornire la sussistenza allo stesso cavaliere, alla sua famiglia, nonché i mezzi adatti, con bastanti per armare il cavallo, per armare almeno un reparto di cavalieri al suo seguito. Da qui la trasformazione degli stessi franchi, i franchi sono una delle popolazioni germaniche che si era già stanziata in territorio romano nel V secolo d.C. e che poi, l'epoca di Carlo, insomma tra il VI e l'VIII secolo d.C., unificheranno in questo unico impero, il sacro romano impero, unificheranno la parte occidentale dell'Europa. All'inizio si tratta di guerrieri che combattono a piedi, pian piano da fanti si trasformano appunto in cavalieri. Quindi capite bene che c'è un legame tra le risorse economiche, quindi il possesso della terra, e l'arte militare. Da qui la nascita delle cosiddette relazioni feudali, relazioni feudali che si basano, feudo vuol dire appunto concessione, ed è la traduzione in lingua germanica del termine latino beneficium, e il beneficio era la terra, la risorsa economica che era concessa al cavaliere per sostenere le spese militari. Il cavaliere giurava fedeltà, la cosiddetta fidelitas, che è assolutamente fondamentale dal punto di vista morale e giuridico. Il cavaliere giura fedeltà al suo signore, ne diventa vassallo, si mette al suo servizio, e in cambio ottiene il beneficio feu, feudo, antica lingua germanica, che il termine feu corrisponde a bene, bene, ricchezza, ottiene questa ricchezza che è la terra. Ed ecco che, dicevo prima, il servizio militare evidentemente, visto che il cavaliere deve provvedere a comprare scudo, cavallo, spada, armatura, lancia, gli scudieri, quindi il personale al suo servizio, deve avere una quantità di terra abbastanza significativa. Prima, quindi il servizio militare, molto prima in realtà, era un'attività entro certi limiti, democratica, cioè poteva essere, poteva coinvolgere tutti gli uomini liberi. Questo riguardava sia il mondo romano, repubblicano, sia il mondo germanico, gli eserciti barbarici, erano composti da tutti gli uomini liberi, uniti, in assemblea, in grado di portare una spada e uno scudo. Quindi un'attività tutto sommato aperta a tutti. E dopo, con l'affermarsi della cavalleria, no, diventa, in servizio militare, diventa un'attività editaria, quindi, aperta soltanto ai ricchi professionisti della guerra, cioè ai pochi cavalieri che possono permettersi questa spesa. Dunque, ripeto, il meccanismo è esattamente questo, no, ovvero, il signore feudale concede in beneficio, si chiama feudo, da cui il termine è feudalesimo, un appezzamento di terra più o meno significativo, più o meno ampio, che consente al suo vassallo, giura fedeltà, consente di sopravvivere e di armarsi. In cambio, il vassallo che si rimette nelle mani del suo signore consacra la sua vita al servizio militare, al servizio militare che dipende direttamente dalla persona del signore. Quindi, si tratta di un rapporto non con un'entità astratta come poteva essere quella del cittadino romano con Roma, con lo Stato romano, con il governo centrale che a volte era lontano centinaia o migliaia di chilometri. Quindi, il rapporto è diretto con questo o quel signore. A livelli centrali ai livelli più alti, quindi, c'è il comites, c'è il gruppo di conti e di marchesi dell'alta nobiltà che circonda il re o l'imperatore nel caso di Carlo Magno e poi giù, scendendo giù giù, i rapporti di Fidelitas si trasmettono dai cosiddetti vassalli ai valvassori che sono le loro dipendenze, ai valvassini e così via. Quindi, c'è un rapporto di Fidelitas che struttura in maniera gerarchica, piramidale, verticale, la società alto-medievale. Dunque, ricapitolando, parliamo di società a forbice perché avete compreso come l'organizzazione sociale dipenda dalle risorse economiche, dalla strutturazione delle risorse economiche e all'inizio i contadini liberi coltivano i propri campi e sono nettamente distinti dagli schiavi che invece lavorano per i signori quindi abbiamo una serie di piccoli proprietari liberi dal punto di vista giuridico quindi cittadini romani a pieno titolo e poi ci sono gli schiavi che non hanno diritto alla cittadinanza evidentemente sono considerati merci nelle mani forza lavoro nelle mani dei signori. Questa è la situazione iniziale pian piano con l'indebolirsi delle strutture centrali dell'impero dei contadini liberi cercano la protezione dei grandi proprietari terrieri in cambio della protezione cedono lo dicevamo la proprietà dei loro terreni e si trasformano quindi pian piano in servite della gleba che non sono nemmeno più atti a svolgere l'attività militare un po' perché sono costretti a lavorare da pane a sera quindi la loro attività lavorativa nelle campagne prende tutto il loro tempo e poi non sono in grado di armarsi perché per armarsi dovrebbero acquistare cavallo armatura scudo eccetera eccetera dall'altra parte abbiamo quindi questo riguarda la popolazione romana perché nei regni romano-barbarbatici abbiamo sia la componente romana o romano-celtica nella Gallia per esempio o nella penisola iberica nella Ispania sia la nuova componente dei popoli germanici che sono giunti adondate successive e che si sono stabiliti nelle province dell'ex impero romano ed occidente ecco nel mondo germanico l'esercito è composto da tutti gli uomini liberi anche qui con l'introduzione della staffa l'esercito diventa fondamentalmente cavalleria quindi un gruppo di professionisti a cavallo e siccome soltanto i proprietari terrieri cioè quelli che hanno a disposizione ricchezze significative sono in grado di potersi permettere il cavallo solo questi rimangono ancorati al mestiere delle armi quindi formeranno il nucleo iniziale di quella cavalleria che coinciderà che finirà con il coincidere con la nobiltà europea in senso lato quindi nobiltà europea che si forma a partire dall'arte della guerra dalla possibilità di esercitare dell'arte della guerra al centro qui abbiamo il rito dell'omaggio la cosiddetta comandazio quindi mettersi al servizio del signore il rito è un rito estremamente significativo che corrisponde ad una diciamo una serie di gesti rituali che ancora oggi sono associati alla preghiera al culto alla religione pensate che i primi cristiani non pregavano inginocchiati a mani giunte come usiamo fare noi chi è più o meno religioso ma comunque queste cose le sa ma pregavano in piedi con le braccia aperte pian piano si diffonde questa forma di preghiera quindi inginocchiati con le mani giunte perché corrisponde alla cerimonia dell'omaggio reso al signore quindi ci si mette ci si giungono le mani il signore prende le mani tra le sue lo si vede meglio in quest'altra diapositiva qui sulla sinistra il signore prende le mani del dell'omaggiante dell'aspirante cavaliere tra le sue e con questo gesto viene stabilito tra i due un rapporto di fidelitas quindi di fedeltà il signore garantisce la sussistenza economica al suo nuovo vassallo nonché la sua protezione in cambio della disponibilità del suo protetto a fornirgli assistenza militare ecco lo stesso gesto lo vedete ripetuto nella diapositiva a destra dall'imperatore che viene incornato dal papa l'imperatore qui Carlo Magno il papa leone quello che gli mette in testa la corona anche qui c'è questo rapporto di questo rituale dell'omaggio quindi in ginocchio con le mani giunte e questo tipo di situazione poi si riproporrà i termini religiosi perché il fedele sta a Dio così come l'omaggiante sta al suo signore quindi la società medievale è una società estremamente divisa verticale perché alla sommità della gerarchia troviamo un piccolo gruppo di grandi proprietari terrieri e in basso una piramide la base della piramide estremamente estesa che è costituita dalla massa dei contadini ridotti al rango di servi della gleba lo abbiamo già accennato precedentemente l'alto medievo è caratterizzato dalla crisi delle città e delle attività economiche collegate alla città in primis per l'appunto il commercio dunque venendo meno i grandi commerci inter europei o comunque tra occidente ed oriente che si basavano sulla navigazione delle rotte marittime nonché dei grandi fiumi navigabili che attraversavano il continente le città le attività che si svolgevano in città iniziano a venire meno una parte significativa della popolazione si sposta lo abbiamo già visto nelle campagne quindi anche la circolazione della moneta che non cesserà mai del tutto comunque ma diminuisce in maniera significativa questo vuol dire che in cambio di altre merci si ottengono beni di prima sussistenza ovvero l'economia si baserà soprattutto nelle campagne della parte occidentale dell'Europa sul cosiddetto baratto cioè in cambio di un determinato prodotto supponiamo grano si ottiene un altro direttamente un altro prodotto supponiamo del vino senza bisogno di ricorrere alla interpolazione del denaro delle monete auree e importante per chi ecco nelle campagne riesce a costruire delle basi economiche un po' più solide è il munirsi di murini ad acqua questa è una delle innovazioni dell'epoca alto medievale il murino ad acqua è uno strumento tecnologico importante va da sì lo vediamo anche in quest'altra diapositiva ecco il murino ad acqua è assolutamente importante perché sostanzialmente risparmia forza lavoro che viene dedicata ad altre attività fondamentalmente alle attività agricole perché l'acqua la forza dell'acqua muove delle pale delle pale del bilegno in genere che a loro volta trasmettono il movimento l'energia dinamica a delle mole interne al mulino che macinano il grano gli ecchi di grano per ottenere farina oppure le olive per ottenere olio o nei frantò nei frantò di olive oppure dopo la vendemmia i chicchi d'uva gli acini per ottenere vino quindi invece di dedicare energie umane o animali a svolgere questi lavori dietro un congro investimento perché costruire un mulino ad acqua è un investimento significativo si ottengono si ottiene di liberare una forza da lavoro piuttosto consistente quindi si tratta di un investimento importante che però si può permettere di fare soltanto qualche ricco signore per così dire i movimenti ecco dicevamo che i rapporti soprattutto tra oriente e occidente si fanno più radi anche le vie di comunicazione sono spesso volentieri interrotte manca poi la manutenzione imperiale quindi anche le cosiddette vie consolari quelle che univano tutta l'Europa che erano state costruite dai romani iniziano a cadere in rovina tuttavia dei collegamenti magari a livello locale si mantengono a livello locale o a livello provinciale e in particolare i ricchi signori o i sovrani sono itineranti perché lo stesso Carlo Magno non ha una sola capitale ma ha parecchie capitali beh hanno possedimenti terrieri che si stendono in province diverse e si muovono un po' per controllare il territorio sono costretti a fare in questa maniera evidentemente vista la lentezza degli spostamenti quindi per far sentire la loro presenza militare politica per amministrare la giustizia un po' perché la corte e l'apparato militare che ruota intorno alla corte è particolarmente oneroso da sostenere quindi esaurite le risorse in una determinata provincia la corte intera si sposta in un'altra provincia per diciamo beneficiare di altre risorse continua anche il commercio del vino per esempio dell'olio da una parte all'altra del continente europeo ci sono naturalmente ancora dei canali commerciali aperti anche se la maggior parte delle transazioni economiche come dicevamo avvengono sostanzialmente in natura quindi tramite baratto a questo a questo quadro generale fanno eccezione alcune realtà citiamo tre in particolare Amalfi e Venezia che poi figureranno successivamente tra le repubbliche famose repubbliche marinare sia Venezia che Amalfi obbediscono almeno virtualmente all'imperatore di Bisanzio che risiede a Costantinopoli evidentemente rappresentano delle sponde in occidente dei terminal commerciali con l'oriente perché mentre la situazione nella parte occidentale dell'ex impero è andata precipitando verso il feudalesimo e quindi con l'arretramento delle città dei rapporti commerciali che dicevamo nella parte orientale del Mediterraneo almeno fino all'invasione araba l'impero bizantino ancora mantiene intatte le strutture economiche commerciali capitalistiche che avevano caratterizzato diciamo il tardo impero romano ecco amalfi e di venezia che sono nate in epoca tardo imperiale all'epoca delle invasioni barbariche mantengono rapporti regolari con bisanzio e attraverso bisanzio attraverso costantinopoli con l'egitto per quanto riguarda amalfi quindi con il grano egiziano per quanto riguarda invece venezia con prodotti di russo riservati ai nobili all'aristocrazia evidentemente si tratta di un commercio molto ridotto il sale come venezia all'inizio sopravvive soprattutto vendendo il sale quindi specializzando la propria economia nello sfruttamento delle saline poi il sale viene venduto risalendo il po in particolare nell'entroterra in tutta la penura padana in cambio fondamentalmente del grano visto che venezia stando sul mare in una laguna evidentemente non ha terre coltivabili in maniera significativa in grado di renderla autosufficiente e d'altra parte Venezia che ripeto è il terminal di Costantinopoli in occidente ha la possibilità di vendere attraverso Costantinopoli di vendere merci provenienti dall'Europa del nord per esempio legnami carbone pellicce ai musulmani con i quali sono in relazione i bizantini quindi praticamente dalla periferia occidentale le merci vengono convogliate verso Venezia verso il porto di Venezia da Venezia vengono trasportate via mare fino a Costantinopoli da Costantinopoli vengono distribuite verso i porti orientali molti dei quali ormai sono sotto il controllo degli arabi il rapporto è sempre un rapporto ambiguo il rapporto è un rapporto di scontro tra l'Islam avanzante e i cristiani sia orientali ortodossi che i cristiani occidentali che sono sulla difensiva è un rapporto di scontro ma anche un rapporto di incontro di scambi commerciali ecco la religione da questo punto di vista non è mai stata di ostacolo la differenza religiosa intendo dire lo stesso Pavia in epoca Longobarda quindi prima della conquista Franca è la capitale del regno Longobardo e rappresenta anch'essa con crocevia di merci che provengono dal nord Europa e dall'oriente quindi Pavia è collegata attraverso il Po a Venezia e con Venezia ha instaurato nei secoli centrali dell'illuminazione Longobarda un rapporto di mutuo scambio di mutuo interesse in quest'altra fotografia ovviamente questa è una ricostruzione contemporanea un carro un carro medievale un carro di legno per gli spostamenti lunghi delle corti in particolare o dei viaggiatori che potevano permettersi un manufatto del genere la maggior parte della gente naturalmente si spostava a piedi o meglio non si spostava affatto al limite gli spostamenti erano molto brevi ci si spostava per portare le proprie merci alla fiera locale e al mercato locale questo è un carro medievale ricostruito da un collezionista questo quello era un carro da trasporto questo invece è un carro abitabile una sorta di roulotte dell'antichità anche questa dell'antichità nell'epoca medievale anche questa se la potevano permettere veramente pochissime persone quindi però è attrezzata come una piccola casa viaggiante i viaggi all'epoca duravano anche settimane o mesi quindi vi potete immaginare la necessità di ricorrere a mezzi del genere per non rinunciare a quel minimo di comfort cui avevano diritto come ripeto gli aristocratici o il re la corte che gli stava intorno la peste come protagonista delle vicende demografiche ecco l'ultima l'ultima pestilenza di cui si abbia memoria è quella che è della metà dell'ottavo secolo intorno al 750 che miete ancora vittime nella parte occidentale dell'Europa quello che poi sarà il regno dei franchi da quel momento in poi la peste si allontana definitivamente dall'Europa si allontana dall'Europa per una serie di fattori di motivi un po' perché come ci insegnano le vicende contemporanee l'allontanamento il distanziamento sociale è assolutamente fondamentale per evitare il contagio e allora qui abbiamo una realtà molto frammentata la popolazione è dispersa nelle campagne le grandi città sono venute meno pensate che una città come Roma che in epoca imperiale contava più di un milione di abitanti in epoca alto medievale ne conta malapena tra i 20 e i 25 mila ed è anche una delle città più popolate dell'Occidente mentre nella parte orientale dell'impero bizantino o se ci spostiamo ancora più in là a Bagdad piuttosto che a Bassora quindi nella Mesopotamia o nella Persia ci sono città decisamente più più grandi con centinaia di migliaia di abitanti pensiamo su Alessandria d'Egitto ecco in Occidente invece la popolazione delle città si è assolutamente rarefatta si è sparpagliata per le campagne quindi questo significa maggiore distanziamento sociale quindi per le malattie per le malattie pandemiche o epidemiche è dura sopravvivere la peste quindi si allontana per un certo periodo di tempo dall'Europa un periodo abbastanza ampio perché poi l'altra pestilenza memorabile avverrà si manifesterà alla metà del XIV secolo la famosa peste narrata da Boccaccio nel Decameron la peste del 300 e abbiamo anche contemporaneamente il rallentamento degli scambi che dicevamo prima quindi crisi delle città distanziamento sociale minori scambi commerciali a parte quelle eccezioni che abbiamo visto nella precedente diapositiva parlando di Venezia di Amalfia e così via poi anche un miglioramento complessivo del clima c'è una branca della storia piuttosto recente che si chiama climatologia che studia la storia del clima e individua come ad epoche diverse corrispondono situazioni economiche sociali diverse a seconda del clima il clima è evidentemente mutato quindi c'è un'epoca particolarmente fredda particolarmente rigida dei primi secoli dopo Cristo quindi dell'epoca imperiale che comporta una progressiva decadenza dell'agricoltura quindi una decadenza anche economica mentre il clima verso in epoca tardo imperiale alto medievale si fa decisamente più mite particolari tra i secoli nono e decimo tanto mite pensate che le rotte nordiche si aprono ai viaggi di esplorazione dei vichinghi tra il IX e il X secolo i vichinghi di cui parleremo in una successiva lezione potranno spingersi attraverso l'oceano atlantico fino a arrivare in Islanda e a Terra Nova quindi in Groenlandia quindi Islanda Groenlandia Groenlandia prende il nome da Greenland cioè Terra Verde quindi all'epoca il clima era particolarmente caldo al punto che la stessa Groenlandia figurava tra le Terre Verdi e chissà che con la crisi climatica attuale non torni ad essere parrebbe proprio di sì anche se oggi la situazione è decisamente disastrosa quindi c'è poco da andare diciamo da giuire per questo cambiamento ma insomma all'epoca i vichinghi riescono a raggiungere Islanda Groenlandia e a spingersi fino anche nel Nord America sarebbero loro i primi scopritori dell'America questo per perché il clima si fa più caldo questo significa che le zone più a nord possono essere coltivate a frumento a granaglie e quindi che sostanzialmente l'economia che ha come base fondamentale l'agricoltura migliore quindi sostiene la spinta demografica all'aumento complessivo della popolazione e dunque questo quadro riepilogativo finale ecco vediamo ecco i secoli ottavo nono e decimo quindi l'alto medioevo che vedono dal punto di vista demografico questa lenta ma costante crescita demografica di cui dicevo motivata dalla fine delle epidemie di peste la peste rimarrà endemica in Asia e poi ritornerà dall'Asia in Europa alla metà del XIV secolo e dal miglioramento del clima poi abbiamo una fase critica tra il X e l'XI secolo di carestie generalizzate perché? beh perché evidentemente le bocche da sfamare sono cresciute troppo in fretta rispetto alle risorse si sono fatti più figli la popolazione è aumentata al punto che anche se la situazione diciamo delle campagne è migliorata però ecco la spinta demografica non è in grado di essere sostenuta dall'economia e il ragionamento è semplice se io ho una unità di terreno da coltivare che è in grado di produrre un grano sufficiente a sfamare una famiglia di 10 persone evidentemente la famiglia può crescere di alcune unità ma se supera un certo numero di persone evidentemente o devo mettere a coltivare altro terreno oppure evidentemente l'alimentazione pro capite si fa più rara meno proteica con meno calorie e quindi la gente è più esposta a malattie quindi si muore prima e la popolazione tende a l'aumento della popolazione tende a ristagnare invece ecco con l'inaugurarsi l'alba del XII secolo tra il 1100 e il 1300 abbiamo una nuova crescita demografica quindi si raggiunge un equilibrio tra la produzione alimentare e il numero di aspiranti consumatori quindi le bocche da sfamare questo anche grazie a innovazioni tecnologiche di cui parleremo in successive elezioni nonché al disboscamento di alcune terre insomma l'allargamento della disponibilità della disponibilità di terre e con questo sostanzialmente ci fermiamo qui naturalmente se ci sono idee concetti da chiarificare vi rimando senz'altro alle lezioni in presenza